amici di canale europa sport benvenuti al consueto appuntamento settimanale con basket e zoom europa come sempre parleremo di basket parleremo di tanta a2 oggi di eurolega di a1 parleremo di tanta a2 perché insomma l'ospite di oggi è un ospite importante abbiamo con noi in collegamento da rimini il coach appunto della palacastro rimini sandro dell'agnello che ringrazio di essere con noi coach e grazie a voi benvenuto e grazie ancora per insomma essere nostra compagnia per parlare di basket allora parliamo subito del nostro ospite appunto coach ma prima ancora sono giocatore di discreto livello fammi dire sandro perché tu sei uno di quei giocatori che può vantare il fatto di aver vinto uno scudetto storico con caserta una squadra di campioni fenomenali annelati da un grandissimo allenatore tanevic grandi esperienze anche nazionale argento olimpico argento europeo scusami per poco insomma non avete mai non siete mai riusciti a partecipare olimpiadi e forse questo è un po l'unica pecca che che hai avuto a livello della nazionale non certo per colpa tua soprannominato anche sandro canna quando giocava giocava a pallazzetto nostro nostro ospite io prima di iniziare a parlare insomma dell'attualità vorrei un attimino che tu ci raccontassi un po quella che è stata la tua carriera prima da cestista e poi quanto e come questa tua carriera ti ha aiutato a diventare poi un allenatore successivamente ovviamente posso dire che l'apice l'hai toccato insomma caserta con quel fantastico scudetto ma guarda è stata una carriera un po atipica perché ho iniziato a giocare molto tardi a 17 avevo già 17 anni e fortunatamente diciamo il fisico e poi la passione quindi la voglia di sacrificarsi e di allenarsi mi hanno portato un po bruciare le tappe perché a 17 anni giocavo in serie d a 20 mi hanno preso in a2 a 23 mi hanno preso a caserta in a1 a 24 mi hanno chiamato in nazionale la prima volta quindi insomma è stata una escalation più unica che rara la palacanestro è tutto nella mia vita è stata una parte importantissima al di là ovviamente della famiglia degli interessi personali perché mi ha consentito poi di formarmi non solo come giocatore allenatore ma anche come persona perché fai sempre parte di un gruppo è un gioco di squadre alcuni e quindi impari a interagire con i compagni con l'allenatore e con tutto quello che c'è fuori dal campo secondo me è una bella scuola anche per la vita della vita di una persona per la vita di fuori del campo e ho avuto la fortuna di non avere infortuni importanti quindi sono riuscito a giocare fino a 43 anni non vado a vergognarsi comunque ho fatto 21 anni di serie a che non sono pochi sono tanti e poi e poi dopo quando smesso già nella testa di provare a fare l'allenatore fortunatamente di buono che alla mia città mi ha chiamato a fare il vice ho fatto tre anni il vice poi ho cominciato ad allenare ho girato un po per l'italia sinceramente mai situazioni quasi mai in situazioni facilissime né ambientalistiche né di budget però insomma abbiamo sempre portato la pelle a casa e sono molto orgoglioso di due o tre salvezze che ho fatto con pochi mezzi in alcune piazze storiche italiane quanto ti porti dietro dell'essere stato allenato da Tanevic nella tua diciamo attuale figura di coach ma guarda io ho avuto la fortuna nei miei vent'anni di essere allenato da tutti i migliori del periodo veramente da tutti i migliori a parte Peterson che ho incrociato solo da avversari e quindi ho cercato di rubare un po da tutti ma ho cercato di rubare anche da quelli che secondo me pochi per la verità non sono stati i migliori anche i rubi perché cerchete capire quello che non si deve fare e l'allenatore che ha avuto più di tutti è stato gamba e nazionale e marcelletti nel club però diciamo il primo allenatore che mi ha lanciato in serie a è stato Tanevic e onestamente è quello forse a cui sono rimasto più da cui sono rimasto più affascinato ecco perché era il classico duro dal cuore tenero che riusciva sempre a spingerti oltre i tuoi limiti e ho dei fantastici ricordi di lui come peraltro di altri allenatori che ho avuto e con i quali sono stato benissimo senti parliamo un attimino adesso sei allenatore della rinascita basket rimini è una bella bella realtà insomma che già dall'anno scorso ha iniziato fammi dire a ingranare bene prima in collegamento insomma prima prima di che ci collegavamo appunto parlavamo del filotto che insomma questa squadra era riuscita a fare l'anno scorso sul finire della stagione vincendo 14 partite su 16 quest'anno siete partiti bene aveva eravate imbattuti fino a sabato poi insomma avete perso contro una sigla squadra come ci vi dare all'ultimo secondo con un tiro da tre subito proprio all'ultimo momento della partita lasciando 0 40 decimi sul cronomito per poter uscire a cercare di ribaltarla non ci siete riusciti tra l'altro aggiungo io prima sconfitta stagionale coach che è arrivata contro una squadra che schierava tra le proprie file una persona che conoscevi bene cioè tuo figlio quindi diciamo il basket è rimasto molto molto in famiglia detto questo comunque raccontaci un po di come di com'è la tua esperienza adesso a Rimini già dall'anno scorso appunto come che aria si respira quanta voglia c'è insomma di basket in questa città che comunque è importante dal punto di vista cestistico e quanto quanto si sente insomma il calore e la voglia insomma da parte della città appunto di portare avanti questa squadra e perché no di credere nel provare a salire in a uno guarda è un posto fantastico per fare il mio lavoro e ti spiego perché io sono arrivato circa un anno fa in corsa a novembre e se sono arrivato in corsa vuol dire che le cose non andavano tanto bene c'era un po di scoraggiamento un po di sfiducia non c'era grande entusiasmo in quel momento intorno alla squadra fortunatamente con l'aiuto della società che è una società molto seria composta da persone serie assolutamente non schizofreniche e che vanno il passo lungo quanto hanno la gamba siamo riusciti a fare i risultati come hai detto te dopo qualche sconfitta iniziale abbiamo fatto in anellato una serie di vittorie incredibile che nemmeno real al madrid perché sono i numeri che lo dicono abbiamo riempito il palazzetto il palazzetto sta facendo un lavoro enorme qua anche i nostri ragazzi dello staff perché piano di famiglie di bambini è una festa ecco la partita non è il classico posto dove ci sono gli oltra che difendono che offendono gli avversari e basta è veramente una festa cittadina e la società è ben scritturata alle spalle larghe stanno siamo convinti di aver fatto una buona squadra e fortunatamente per ora lo stiamo confermando sul campo perché se sei partite ne abbiamo perso solo una all'ultimo secondo quindi è veramente un posto fantastico rimini è una bellissima città io personalmente personalmente e cortovolmente non conoscevo e invece non è solo mare e spiaggia e casino ma è una bella città insomma un centro storico parchi e l'inter la del quindi c'è tutto per far bene no tra l'altro come detto te è vero l'anno scorso un bel filotto siete attualmente comunque primi in classifica in coabitazione contro una delle grandi super favorite per tornare in a uno appunto che è canto come si sta penso che voi ormai abbiate una certa consapevolezza io mi permetto di dire che secondo me il vostro roster è un ottimo roster e avete due stranieri sicuramente di esperienza e molto importanti poi io sono uno che insomma sono un po innamorato di robinson insomma perché l'ho visto giocare tante volte dal vivo in serie 1 e ho visto un giocatore che in grado di dispensare una quantità infinita di assist è proprio un giocatore che gioca per la squadra come su com'è in questo momento la condizione fisica fisica dei vostri dei vostri stranieri in questo momento c'è robinson l'ho visto un po in affanno ultimamente guarda noi stiamo tutti abbastanza bene a parte proprio lui perché lui è arrivato due settimane dall'inizio del campionato era completamente a terra gradatamente con lo staff tecnico preparato atletico abbiamo cercato di metterlo in pista e nel momento in cui ha fatto la prima partita tre settimane fa diciamo uscendo da un blocco ha preso un corpo all'anca lì si è formato un ematoma e questo ematoma non si è ancora assorbito nel frattempo lui è dovuto rifermarsi due settimane ora ci sta giocando un po sopra perché clinicamente sano ovviamente dal punto di vista del dolore sente ancora qualcosa ma soprattutto ha riperso la forma quindi in sostanza noi questo inizio di campionato l'abbiamo fatto sostanzialmente senza uno straniero perché ha giocato una partita e poi le ultime due credo una quindicina di minuti contiamo nel giro di una settimana o due insomma di rimetterlo in pista al cento per cento se ti a proposito della due io ho letto una tua intervista all'inizio della stagione che la consideravi la consideri adesso non so se hai cambiato opinione una mezza a uno nel senso che io personalmente sto seguendo questo campionato già dall'anno scorso in maniera molto attenta non a caso in questo momento trieste e vabbè trapani che è una cosa un po' a parte in a uno stanno andando molto bene nonostante sono arrivate al campionato cadetto anche quest'anno tante squadre molto attrezzate secondo me è un livello di a due che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo è cresciuto tanto da punto di vista quanti qualitativo ma anche quantitativo perché sono veramente tante le squadre che è un po' per la regola insomma di che c'è quest'anno la prima classificata della regular season a proda direttamente in a uno e poi ci sono i playoff però oggettivamente sono io vedo tante squadre attrezzate che possono rischiano veramente di riuscire a salire in a uno sei d'accordo con questa affermazione o pensi che c'è sono poche squadre insomma che alla lunga prenderanno largo guarda sono totalmente d'accordo io credo insomma di conoscere bene la due sono sono abbastanza sicuro di quello che dico e saranno vent'anni che non che non c'è una due di così alto livello come quest'anno ma non solo perché ci sono sette otto dieci squadre attrezzatissime ma perché le altre sette otto dieci squadre non sono le squadre materasso che c'erano qualche anno fa quando eravamo 28 30 32 squadre adesso ce ne sono venti come hai detto prima nell'ultima lo scorso anno e soprattutto per quest'estate molte società non hanno lesinato denari e hanno ingaggiato anche un bel numero di giocatori da prime leghe anche dalla serie a italiana e quindi il livello quest'anno è veramente alto secondo me la 2 è molto spettacolare io sempre sostenuto che tra una a 2 c'è un bel gradino di differenza un gradino molto alto quest'anno secondo me tra le ultime di a 1 le prime di a 2 non è così alto senti coach in a 2 si riesce ancora ad allenare i giocatori dal punto di vista tecnico e quindi insomma formare anche dei giovani oppure diciamo questa fammi dire in alzamento verso l'alto della della competizione fa sì che le squadre si compongano più di giocatori esperti a quale magari bisogna più insegnare la gestione delle partite piuttosto che la tecnica no guarda allora normalmente c'è tempo perché normalmente era due giochi quattro volte al mese quindi ha tutto il tempo per allenare i giocatori e per migliorarli quest'anno per adesso non è stato così perché abbiamo avuto un mese di ottobre con sette partite spalmate in tre settimane un ritmo quasi di Eurolega e quindi ti alleni poco e giochi molto bisogna stare molto attenti perché comunque noi siamo personaggi di a 2 non siamo abituati ai ritmi di Eurolega e possiamo anche pagarli cari dal punto di vista infortuni e varie problematiche fisiche perché il giocatore di a 2 non è abituato a giocare tre partite alla settimana ripetutamente questo è un aspetto da tenere bene in considerazione io giungo un'altra cosa secondo me per salire in a 1 sicuramente servono gli americani giusti serve comunque avere un buon roster serve allenatore che sa gestire i giocatori sa allenare ma serve proprio tutto anche la società com'è in questo momento Rimini la tua situazione l'ambiente dirigenziale lo staff vi sentite pronti insomma per affrontare un campionato di livello o secondo te manca ancora qualcosa questa squadra guarda la società è molto solida è molto strutturata c'è un presidente ma ci sono innumerevoli soci che che fanno parte del cda e poi della società allargata e quindi non dipendiamo dal mecenate di turno ma c'è un grande coagulo intorno al basket rimini anche per merito ed i carassi e turci che sono i nostri principali dirigenti e del presidente maggiori che riesce diciamo a coinvolgere gran parte del tessuto industriale della città detto questo il nostro obiettivo è chiarissimo vogliamo porsone per off alla fine del campionato allo stesso tempo pensiamo di essere attrezzati per poter competere con tutti ma come dicevamo prima poi insomma squadre forti ce ne sono tante il nostro obiettivo ad oggi è pari però mi dai un nome secondo te della squadra che più accreditata per vincere la regola season in a2 escludi pure rimini e insomma perché insomma poi valgono tutti gli scongiuri del caso ma adesso nemmeno chi diresti a bocce ferme avrei detto cantù e pesaro e come vedi in questo momento le difficoltà che hanno brindisi e pesaro in questo perché brindisi un po' è sorprendente insomma all'inizio che ha avuto pesaro vabbè c'è stato anche cambio di allenatore per sacripanti per motivi personali ha lasciato lasciato pesaro queste due squadre queste due piazze importantissime a proposito di livello della 2 insomma per far capire che squadre giocano in a2 come come vedi questo inizio e come vedi il loro percorso durante l'anno ma guarda ovviamente viste da fuori e quindi facciamo chiacchiere da bar veramente mi sembrano due situazioni molto differenti perché pesaro sostanzialmente mi sembra di poter dire che è quasi sempre stata al completo e quindi effettivamente qualche problema ci sarà brindisi mi metto nei panni di bucchi che ha il 4 e il 5 titolare infortunati ha avuto il 3 titolare fuori squadre infortunato fino a tre giorni fa quindi quella che sta giocando ora non è certamente la vera brindisi ecco bisogna fare secondo me due distingue sì chiudo il cerchio parlando della 2 insomma che personalmente effettivamente in questo momento Cantù è una signora squadra e parlando insomma di Cantù vorrei stigmatizzare un attimo l'episodio che poi è successo recentemente quindi sabato scorso io sono rimasto un po' basito perché durante la partita appunto di Cantù Moraschini mentre rimetteva la palla è stato così ha preso un buffetto da dietro da un tifoso non ha reagito neanche più di tanto ma lui si è preso il tecnico per aver interagito con il tifoso che dallo spalto insomma pensava bene di interferire su una rimessa in campo brutta roba e onestamente regola che secondo me va cambiata perché trovo assurdo che un giocatore che subisca una roba del genere da un tifoso prenda poi tecnico e anzi meno male che insomma ha reagito ridendoci sopra il giocatore perché poteva finire diversamente non so se vuoi dire qualcosa su questo episodio oh beh l'ho visto anch'io il il tipo che non so chi sia sicuramente un idiota e credo di non offendere nessuno a dirlo e se posso fare una battuta ti posso dire che ai miei tempi il Moraschini di turno sarebbe saltato su e il piccoletto la schiaffetti non ne dava più e penso anch'io penso anch'io effettivamente soprattutto tu l'hai giocato anche a Pesaro poi giusto in quello che che però era un altro palazzetto no quello di adesso era un palazzetto dove il pubblico era a un metro della linea di fondo cioè fammi dire dalla linea di campo e quindi non si sentiva tanto giusto il palazzetto del vecchio di Pesaro assomiglia molto al Palamacchia di Livorno dove è successo con la gente molto vicina ai lati del campo ma fortunatamente negli ultimi anni a parte questo emerito idiota episodi del genere non ne succedono si è successo qualche settimana fa in Eurolega che se non ricordo male dove un giocatore del Fenerbahce ha preso un tecnico proprio per questo motivo l'anno scorso sempre l'Eurolega alla partita del Monaco con Mike James vabbè chiudiamo la parentesi fammi dire idiota come giustamente hai definito te e così apriamo il capitolo dell'Eurolega io so che tu sei un grande amante dell'Eurolega io ho letto una tua intervista di qualche anno fa dove dicevi che a differenza dell'NBA ti ha passione di più l'Eurolega anzi testori parole ho letto che quando guardi una partita di NBA di regola season presumo spesso ti annoi non ce la fai e cambi canale ti correggo il peggio io non guardo l'NBA perché credo che sia una delle cose più noiosi al mondo perché l'NBA almeno fino a quando non si giocano i playoff è entertainment non è competizione vera giocano praticamente tutti i giorni quasi tutti i giorni non c'è la necessità spasmodica di vincere come c'è in Eurolega dove qualcuno un pochino più famoso di me che è Obradovic dice che ogni partita è vita o morte della verità quindi io l'NBA non riesco assolutamente a guardarla anche perché poi fino a pochi anni fa ma credo anche ultimamente la maggior parte della squadra palla alla stella mille palleggi uno contro uno palla all'altra stella mille palleggi uno contro uno è una roba secondo me aberrante non è palla canestra fortunatamente per loro miliardi di appassionati che non lo pensano come me per me la palla canestra vera è l'Eurolega a livello agonistico e fisico veramente altissimo dove ogni partita vedi delle guerre ma nel senso ovviamente sportivo del termine e mi appassiona molto si aggiungo io che forse in NBA a differenza invece del basket europeo soprattutto in alcune partite proprio di regular season dove tu hai detto è molto intrattenimento e poco gioco spesso alcune regole fondamentali vengono un po' interpretate anche dagli arbitri insomma non sto lì a parlare dei passi o insomma di altre certe situazioni anche difensive dove si predilige dare corso allo spettacolo piuttosto che interrompere diciamo il gioco per un fallo chiaro o per un'infrazione di passi o per un doppio palleggio insomma chiaramente sono due cose diverse ma proprio perché hai fatto il paragone con l'Eurolega direi che a questo punto possiamo anche parlare di Eurolega parliamo di Eurolega è stata una settimana importante con un doppio turno non che mi faccia impazzire il doppio turno di Eurolega perché sottopone le squadre i giocatori a uno stress fisico e mentale non indifferente secondo me ne risente un po' il livello qualitativo delle gare che comunque rimane altissimo e non c'è niente di meglio nel panorama europeo in questo momento che appunto questa Lega detto ciò magari parliamo dopo dell'italiana e mi permetto di dire adesso che in questo momento cioè dico oggettivamente che in questo momento in testa della classifica ci sono delle squadre che in parte sono un po' una rivelazione rispetto a quello che ci si aspettava di vedere Fenermaccio è il primo in classifica ma in coabitazione con altre squadre c'è la Stella Rossa che secondo me sta facendo un inizio di Eurolega clamoroso ha perso l'ultima partita supplementare perché in Barcellona aveva tra le proprie file un certo Panther e l'ha vinta lui insomma questa partita portando la prima supplementare e poi vincendola anche lì tirata 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 c'è lo Zaghiris di Trinchieri insomma che veniva dalla doppia trasferta in Italia Bologna e Milano è uscito con due vittorie importantissime c'è il Monaco non è una sorpresa il Monaco è fondamentalmente una delle squadre che anche l'anno scorso è arrivata a mezzo tiro da giocarsi le Final Four del Fenerbahce abbiamo già detto un po' più indietro abbiamo Panatinacos e Olimpiakos squadre molto cambiate con tanti giocatori che hanno bisogno sicuramente di un po' di rodaggio ma che prima o poi arriveranno detto questo ci sono state delle partite molto molto interessanti secondo me è una partita stupenda è stata Stella Rossa a Barcellona come ho già detto prima ma devo dire vedo un'altra una squadra è parlato di Obradovic c'è il partisan di questo signore qua che forse è l'allenatore Obradovic è un allenatore che allena da parecchi anni ma paradossalmente riesce sempre a seguire e ha come dire il basket moderno e riesce ad adeguarsi a quello che è il cambiamento del basket ha vinto l'Eurolega nel 90 l'ha vinto nel 2000 l'ha vinta nel 2010 e probabilmente la vincerà anche in questo decennio un Eurolega un po' di tempo arriverà io vedo un partisan molto moderno molto europeo e poi mi fa un po' specie ma lo dico senza nessun riferimento razziale a volte vedere una squadra serba senza neanche un giocatore bianco in campo questa è un po' una cosa una cosa un po' strana soprattutto da quelle parti a differenza della stella rossa senza parlare degli italiani chi vede in questo momento in Europa come squadra insomma dell'Eurolega che sta ben performando e che per te può essere una bella sorpresa ma allora innanzitutto con Obradovic sfonde una porta aperta perché hai detto bene te sono 30 anni che è al top rinnovandosi e innovando continuamente quindi possiamo solo toglierci il cappello davanti a uno spessore di questo tipo per quanto riguarda l'Eurolega come tutti i campionati si possiamo parlare di classifica ma relativamente dai se non sbaglio ha fatto quattro partite e quindi essere primi secondi o terci ultimi insomma le partite sono troppo poche per poter valutare sicuramente la stella rossa è sorprendente perché forse non ha un roster come quelle che teoricamente sono considerate le più attrezzate ma alla fine sono sicuro che il Real Madrid, il Panathinaikos e l'Olympiakos saranno i primi posti della classifica io sarei abbastanza sicuro di questo perché perché per vincere devi essere anche abituato a vincere per stare in alto devi essere anche abituato a stare in alto è difficile che tu arrivi e fai ci vuole anche un po' di vissuto alle spalle e loro ce l'hanno sicuramente la stella rossa benissimo il Monacova è attrezzatissimo e mi sembra di non dimenticarmi nessun altro anche il Fenerbahce sicuramente se lo giocherà è un campionato appassionante come tutti gli anni sì tra l'altro a proposito di Fenerbahce c'è una statistica che io sto seguendo in maniera abbastanza molto curiosa per quanto riguarda un giocatore che abbiamo perso nel nostro compionato che è Melli che insomma sta giocando e sta facendo le fortune della squadra turca Melli è l'unico giocatore di Eurolega sulla base appunto di quattro partite come detto te campione non ancora sufficientemente rappresentativo però che indipendentemente da vincere o perdere le partite ha un plus minus se mai negativo in ogni partita che ha giocato cioè quando con lui in campo la squadra non è mai andata sotto nel punteggio anzi quando è andata male il suo plus minus è stato zero oppure è stato ampiamente positivo con picchi anche di più 20 quando si dice avere un giocatore che sa difendere e sa far giocare bene le altre squadre senza essere un portatore di palla ho chiuso la parentesi volevo rappresentare insomma questa statistica che vorrò portare avanti ancora per tanto tempo detto questo parlavamo di giocatore italiano doveroso parlare delle squadre italiane di Eurolega Bologna e Milano in questo momento occupano esattamente la ultima e penultima posizione dello standing è vero sono solo quattro partite però partire con un 4-0 per Bologna e tra l'altro avere il turno questa settimana in quel di Belgrado contro il partizano di Obradovic con il rischio di andare a finire 0-5 è abbastanza elevato secondo te premesso che il campionato l'Eurolega di Bologna sarà sicuramente un Eurolega molto complicata e difficile perché è cambiata la squadra e alcuni giocatori oggettivamente non sono in condizioni uno su tutti i club come vedi questa squadra allenata da banchi insomma come potrà affrontare insomma secondo te questo campionato ma guarda remesso che da Messina e da banchi c'è solo da imparare e lo dico senza piageria perché sono due allenatori di altissimo livello secondo me i roster non sono roster da ultimo posto e come abbiamo detto prima quattro partite sono poche per giudicare allo stesso tempo sempre da tifoso sto parlando da tifoso non tanto da allenatore perché poi io faccio la due e loro fanno l'Eurolega sono due mondi completamente diversi e quindi non voglio barri assolutamente il fenomeno il mio punto di vista così parlando in trasmissione al bar tra amici è che tutte e due le squadre non siano attrezzate abbastanza nel reparto piccoli per poter primeggiare questa è la mia opinione personale ma sicuramente posso sbagliare però sono due buone squadre e sono sicuro che alla lunga potranno dire la loro anche in un campionato così difficile aggiungo io hai toccato un punto importante sul discorso insomma dei piccoli quindi degli esterni secondo me in questo momento a bologna bisogna un attimino rivitalizzare un giocatore fondamentale che lo è stato anche negli anni scorsi come akhet probabilmente un po indietro dal punto di vista della preparazione atletico fisica e perché oggettivamente è molto molto in difficoltà soprattutto nelle partite di Eurolega e non è un caso dico io perché in Eurolega effettivamente il livello di intensità è un livello estremamente alto e esigente fatemi dire parlando di Milano insomma io penso che Milano deve fare molta attenzione a quello che sta succedendo faccio un discorso un po più ampio rispetto a quello del gioco rispetto a quello che diciamo il fatto che abbia solo una vittoria su quattro partite tra l'altro vinta col Parigi tiratissima e sudatissima perché Chavon Schilza ha deciso contro il Paris di non perdere quindi l'hanno vinta ma la sconfitta che è maturata giovedì scorso al forum contro lo Zagiris lascio stare la partita persa ad Atene contro l'Olympiakos perché è una partita che ci può stare una sconfitta che ci può stare contro una squadra dove oggettivamente la differenza non soltanto tra i piccoli ma soprattutto anche tra i lunghi si è fatta sentire finché Milano lo recupera Nibo è oggettivamente un po in affanno sotto canestro per quanto non si possa chiedere a Milotic di fare continuamente gli straordinari sotto canestro perché insomma non ha più l'età e poi soprattutto perché diventa un problema quando deve difendere detto questo la sconfitta invece a casalinga contro lo Zagiris è un po preoccupante non tanto perché è una sconfitta ci può stare perché sappiamo tutti che lo Zagiris è una signora squadra allenata da un signor allenatore come Trinchieri a proposito di allenatori italiani però è come maturata che oggettivamente ha un po stordito un po tutto l'ambiente io ho visto stordito anche Messina al termine della partita perché avere un vantaggio di 27 punti a 14 minuti dalla fine e soprattutto perderlo non perché la squadra avversaria fa 1-2 minuti clamorosi e recupera 10-0 in maniera senza che neanche te ne accorgi ma perché è stato un recupero lento costante senza che Milano riuscisse a capire cosa stava succedendo e senza fatemi dire anche che Messina diciamo cercasse di ordinare un po l'idea 8 minuti di puro diciamo schiaffeggiamento da parte dello Zagiris senza che Messina chiamasse time out cambiasse qualcosa si inventasse un qualcosa di diverso sulle marcature penetrazioni facili da parte dello Zagiris scarichi sempre con l'uomo all'angolo dove nel primo tempo non avevano un tiro da tre nel terzo quarto terzo e quarto quarto fioccavano i canestri pesanti dello Zagiris in maniera fin troppo semplice io dico attenzione perché sconfitta brutta con tanto di vantaggio di lapidato ma soprattutto il pubblico Milano io sto seguendo tutte le partite di Eurolega di Milano ha perso in media 2000 spettatori rispetto all'anno scorso in Eurolega è un segnale che pochi stanno dicendo ma bisogna fare attenzione perché poi il pubblico di Milano quando percepisce che c'è i giocatori o la squadra non rendono come dovrebbero è un pubblico un po' particolare questo è questo mio pensiero ed è anche però un dato oggettivo sul fatto che vedere il forum in partita di Eurolega non completamente pieno come loro l'anno scorso nonostante l'anno scorso non sia stata una bella annata insomma bisogna fare attenzione giovedì arriva l'Efes e quindi Milano ha sì la possibilità di riprendersi però deve fare molta attenzione perché un'altra sconfitta inizia a essere complicata mi dai un commento su quello che abbiamo visto giovedì contro lo Zalgiris guarda ti do un commento ti do un'opinione da allenatore e una da tifoso da allenatore ti dico e lo penso sinceramente ma non c'è bisogno te lo dico io che Messina e Banchi mi ripeto sono allenatori di altissimo livello e io e te possiamo stare qui sei ore fino a mezzanotte ma nessuno meglio di loro sa di cosa c'è bisogno nella loro squadra in questo momento e quindi non metto assolutamente il becco e dal punto di vista del tifoso posso dirti sinceramente che tutte le volte che giocano io faccio sì al tifo per Milano che per Bologna perché sono due squadre italiane e spero che possano ben figurare. Io questo sono d'accordo con te anch'io voglio dire quando giocano le squadre italiane un po' di campagnismo nazionale c'è sempre quindi tendo anch'io a sperare insomma che queste squadre possano vincere e facciano bene poi è ovvio che sono appassionato di basket e certe cose le vorrei anche analizzare da un punto di vista diciamo fuori da quello che è il contesto squadre italiane una squadra italiana ma hai detto bene hai detto bene le analisi da appassionato magari Messina c'è un po' più di curriculum sia di te che ti hai messo insieme per analizzarle e visto che era allenatore e vede sui giocatori tutti i giorni mi permetto di dire che forse ne sa un po' più di noi. No ma guarda di me sicuramente perché insomma non posso neanche paragonarmi a nessun nessun allenatore insomma che 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 calca insomma i parche ma parliamo della serie D in poi in su quindi voglio dire sicuramente ne conosce meglio di me su quello che è la gestione di un gruppo e come si allenano squadre di un certo livello però la considerazione insomma di quello che è successo e come è maturato è oggettivamente un po' bizzarra insomma perché Milano ha veramente perso un'occasione per rimettersi anche in pari in classifica con due vittorie e due sconfitte adesso è 1-3 e ribadisco era una partita dove anche Rosal Ghiris non ha fatto niente di eccezionale se non iniziare a crederci e tanto di cappello a Trinchieri e alla sua banda perché lo stesso Trinchieri ha detto per più di due quarti giravamo per il campo senza capirci niente poi abbiamo fatto click e clac e la squadra ha iniziato a crederci e bravi loro che ci hanno creduto io tra l'altro Rosal Ghiris all'inizio dell'anno quando abbiamo provato a fare il ranking delle squadre l'ho messa come squadra che potrebbe tranquillamente ambire a una posizione nei play-in insieme a tante altre non escludo di certo Milano anche se insomma è importante che ci sia una svolta una domanda che riguarda Milano e qui sempre da non da persone dentro Milano ma insomma da parlo con te perché sei comunque un addetto a lavori un esperto come vedi il fatto che in queste ore si parla tanto dell'interessamento di Milano per il giocatore di Varese Magnon quindi per andare ad aumentare il reparto degli handler che in questo momento Milano ha un po' diciamo in difficoltà è un giocatore che può servire alla causa oppure pensi che sia una situazione soltanto di ripiego? Guarda questo onestamente te lo vorrei dire sinceramente ma non te lo so dire anche perché conosco Dimitrijevic e Bolmaro ma li conosco relativamente poi bisogna sapere le dinamiche del gruppo le dinamiche tecniche del gruppo io tutte queste cose non le so mi posso riallacciare a quello che dicevo prima e continuo a pensare dal mio punto di vista che sia Milano che Bologna se riescono in qualche modo a rinforzare il reparto piccoli sicuramente ne possono beneficiare ma per rinforzare come intendo io intendo che le altre squadre che puntano a stare in alto in Eurolega hanno nel reparto piccoli 2 3 4 stelle di valore assoluto ecco secondo me Milano e Bologna da questo punto di vista fanno un po' più fatica ecco la palacanestro insomma da sempre forse non da sempre ma da tanto 9 volte su 10 la decidono i piccoli non i lunghi si aggiungo io che su Bologna un piccolo innesto anche nei lunghi non sarebbe male ma insomma questo oggettivamente sono un po' corti come rotazioni da quel punto di vista va bene abbiamo capito innanzitutto che coach Sandro sei insomma stimatore di Messina e di banchi e sei ben rispettoso di quello che è il lavoro insomma allora e non ti vuoi sbilanciare più di tanto e ci sta ci mancherebbe assolutamente non lo sai perché sono rispettoso lo sai perché sono rispettoso perché fare l'allenatore è un lavoraccio è un lavoraccio è difficile e poi arriva quello che fa il pasticciere noi poi scrive un post e dice Messina non capisce niente e la mattina fa le fa le paste che le fa buonissime se mi invita io ci vado volentieri a mangiarle ma come fa a giudicare Messina che ha vinto non so quanti titoli ecco queste cose mi giungo io a volte mi possono arrabbiare ora mi fanno ridere il vostro è il lavoro più brutto più difficile per carità chiaramente stiamo parlando per quanto riguarda delle critiche dopo gli arbitri è perché gli arbitri sono è l'audaccio il peggiore posso dire che è peggio di fare l'allenatore l'arbitro perché oggi ti è soprattutto il mio lavoro bellissimo è il mio lavoro bellissimo assolutamente però da un certo punto di vista sai bene che quando vai al palazzetto ci sono in a 2 4 mila persone magari a vederlo lo lega sono in 10 mila e sono 10 mila allenatori capito e questo mi fa mi fa sorridere ma è bello anche questo e beh sì è anche il bello di questo sport insomma di poter competere a certi livelli con davanti a tanta gente che pretende magari di saperne più di un allenatore ma non siamo noi certi ma c'è di compatti di gioco se ci mancherebbe senti sandro chiudiamo la parentesi euro lega parliamo di campionato parliamo di campionato il milano insomma un po' in emergenza proprio nei reparto lunghi si riprende vince una partita non facile in quel di Scafati Messina rispolverà un giocatore che a me piace molto che è Willy Caruso come centro e la porta a casa dopo un inizio insomma un po' difficile un po' tentennante a me piace molto onestamente intriga molto la squadra di Scafati con Pimkins che è un giocatore che fa pentole e coperchi ed è un giocatore sicuramente di livello anche Akin è un giocatore che era un po' messo sulla graticola all'inizio del campionato ma ha sfoderato anche ieri una prestazione molto molto bella e devo dire sono contento anche per un coach emergente come Marcelo Nicola che insomma ha questa occasione e se la sta se la sta giocando bene detto questo però in questo momento in campionato c'è una sola c'è una squadra al comando che è Trento che è Trento che è a punteggio pieno e prima in campionato però faccio una piccola parentesi arrivava da una settimana un infrasettimanale disastroso e qui tanto tanto merito a coach e gabbiati perché ha perso di 40 la partita in coppa e riuscita a organizzare l'idea tornato in campionato e secondo me ha portato a casa una vittoria importantissima che appunto permette a Trento di rimanere prima in classifica e insomma a risollevare un ambiente che dopo una batossa del genere poteva avere poteva avere un familiare un un contracolpo importante tra l'altro ha vinto a treviso fuori casa 83 76 quindi direi onore a Trento che è riuscita a riprendersi bene la partita personalmente che mi è piaciuta di più che è stato uno spettacolo per la palacanesso è stata quella di Trieste Trieste che era prima in classifica un punteggio pieno prima di domenica ha perso in casa 85 97 contro Reggio Emilia una partita stupenda giocata a ritmi altissimi io non so se tra le tue squadre quelle che devi vedere da due l'Eurolega riesce a vederti anche le partite di a1 Sandro ma guarda onestamente in questo periodo che ripeto anche noi abbiamo giocato praticamente tre volte a settimana e quindi sai bene che insomma dobbiamo guardare perlomeno guardiamo io guardo sicuramente ma tutti i miei colleghi diverse partite dell'avversario io di a1 fino adesso ho guardato molto poco devo essere onesto credo credo di poter dire che sicuramente per la qualità degli allenatori come ho detto prima ma anche per oggettivamente per roster gira e rigira alla fine delle prime due posizioni saranno quelle ben definite degli ultimi anni perché secondo me c'è un po troppa differenza tra loro due e tutte le altre squadre un giudizio veloce su Trapani? Trapani numero uno presidente fossero tutti così insomma parla tanto ma fa anche i fatti agisce molto agisce molto e quindi benvengano personaggi così benvenga Trapani benvenga la parca inesto al sud è una ventata di freschezza una bella novità che do pace e piacere a tutti e aggiungo io anche una bella squadra perché insomma è una non hanno lesinato sforzi economici perché poi posso immaginare che portare un giocatore a Trapani non è così facile come portarlo a Milano a Bologna e quindi complimenti a loro si è toccato un punto importante infatti perché l'anno scorso quando parlavamo a fine del campionato di a2 tra l'altro con il nostro amico Sandro De Paul parlavamo di Trapani e oltre che di Trieste ovviamente però parlato di Trapani si diceva salto in a1 sicuramente il presidente vorrà rendere ancora più forte questa squadra certo convince i giocatori importanti a non giocare in metropoli come Milano magari come in Bologna come possono essere altre città ma andare a Trapani potrebbe essere un problema invece c'è riuscito addirittura mi permetto di dire a due allenatori insieme insomma perché che potrebbero tranquillamente vabbè Repi già non lo devo certo presentare io però insomma ha veramente uno staff dirigenziale un roster una profondità di roster clamorosa e agito anche sul palazzetto perché insomma Trapani ha fatto tanti lavori anche per il palazzetto arrivando in a1 la squadra gioca sempre in un contesto dove c'è tanta gente una bellissima cornice il presidente ci crede la squadra c'è hanno vinto tre partite di fila dopo aver perso la prima di un punto contro contro Bologna insomma tanta roba effettivamente come detto te no no ma io guardo infatti io quando ho detto prima portarli a Trapani non è facile non mi riferivo nemmeno tanto alla metropoli alla cittadina di provincia al nord al sud non è tanto questo ma l'ha portato i giocatori di livello e i giocatori di livello quando te li vai a cercare prima di tutto se possono vogliono fare l'Eurolega se non trovano l'Eurolega vogliono fare l'Eurocup se non vogliono fare l'Eurocup vogliono fare e quindi portare giocatori di livello in una squadra che per adesso non fa le coppe e comunque due anni fa o un anno fa faceva la due non è semplice ecco intendevo solo questo beh questo però vuol dire anche che effettivamente se ci sono arrivati vuol dire che il progetto è valido e quindi insomma tanto di cappello a come sono state organizzate le idee e come sono state messe proprio sul piatto e proprio squadra perfetta secondo me squadra tosta squadra giusta squadra ben allenata io penso che trapani arriverà ai playoff senza neanche tanti problemi detto questo c'è da purtroppo per problemi che tutti sappiamo che tra l'altro affliggono anche la terra dove sei te la partita tra Bologna e Tortona non si è potuta giocare per i problemi che sappiamo dovuto appunto all'allegamento che ha avuto la città di Bologna e non solo ovviamente siamo tutti vicino insomma alla popolazione che stanno subendo tantissimi disagi e quindi speriamo che la cosa si possa risolvere il prima possibile detto questo una sola squadra ancora non conosce la vittoria che Varese che subisce proprio da trapani l'ennesimo centello centonove per l'esattezza non lo so non dico più niente su Varese perché secondo me diventa complicato poter reggere in a uno prendendo sistematicamente più di cento punti ogni partita perché finché l'attacco ti tiene poi però è un conto poi è un momento in cui hai un calo fisico e non hai meccanismi giusti difensivi ovvio che l'altra squadra se è squadra prima o poi prende il largo bene Brescia che batte Sassari si conferma quindi nelle zone alte della classifica vince Venezia che appunto coglie la prima vittoria a Pistoia 77-64 per Venezia voglio dire era solo questione di tempo tanti infortuni prima o poi la vittoria doveva arrivare e secondo me qui adesso inizierà il campionato giusto di Venezia attenzione a Napoli che perde 81-87 in casa contro Cremona e squadra un po' in difficoltà si parla già di esonero dell'allenatore ma insomma di quello poi si vedrà successivamente anche a Napoli onestamente secondo me da un po' di anni hanno messo giù un progetto serio prova ne è insomma il fatto che l'anno scorso la squadra ha vinto anche la Coppa Italia vediamo che succederà con la prossima giornata Coach sulla 1 tu sei stato chiaro hai detto che più o meno le prime due posizioni nel lungo periodo saranno quelle che un po' tutti si aspettano quindi non l'hai detto dico io Milano e Bologna come terzo e quarto incomodo chi vedi in questo momento in un'ipotetica semifinale dei playoff ci portiamo avanti e lo so siamo gente che vede ora guarda io mi fa un po' sorridere una cosa che stavamo parlando appunto in generale dell'A1 secondo me ci sono un sacco di allenatori di altissimo livello quest'anno in A2 allenatori che hanno fatto decenni di campionati di A1 e capisco poco quindi difendo un po' la mia categoria diciamo non difendo dell'agnello ma difendo la mia categoria capisco poco questa esterofilia che c'è in A1 di andare a prendere allenatori all'estero che poi dopo se porti Obradovic fai bene lo vado a prendere io ma altri non lo so ecco non so cosa ci fanno vedere di nuovo e di fantastico anche perché mi sembra di poter dire che perlomeno fino ad ora e poi sicuramente se l'ho smentito le squadre allenate dagli stranieri mi sembrano sia abbastanza in passo nella classifica attuale detto questo forse sono andato fuori un po' fuori domanda penso che Tortona sarà la squadra che si farà rispettare perché De Raffaele è molto bravo e Venezia quando sarà al completo sicuramente dirà la sua e magari mi scordo anche qualche altro no su Tortona sono pienamente d'accordo con te è una squadra tostissima 10 giocatori che possono tranquillamente ruotare nel quintetto senza problemi squadra lunga squadra tosta con un giocatore secondo me di livello come Cuge che effettivamente è di una categoria veramente importante per il nostro campionato anzi benvenga averlo e benvenga poterlo vedere insomma giocare ai nostri palazzetti allora coach noi siamo arrivati alla fine di questa puntata io ti ringrazio veramente per la tua disponibilità insomma per essere stato con noi spero insomma che ti sia divertito anche te a parlare di basket ti faccio tanti auguri per il proseguo del campionato e chissà poi magari si possa festeggiare qualcosa di bello a fine anno grazie grazie a voi per l'invito e la palacanestro è anche la mia passione quindi mi fa sempre piacere grazie a voi benissimo ok allora per oggi abbiamo finito ci vediamo settimana prossima seguiteci sui social grazie e buona serata a tutti ciao